Musica Lunedì 25 febbraio il secondo quaresimale del Vescovo nella Basilica di San Paterniano Domenica 3 marzo il Centro Pastorale ospiterà l'Assemblea Pastorale Diocesana a relazionare sul tema Entrare nella Fede per Uscire nel Mondo Padre Gianni Giacomelli L'Arte della Pace alla Scuola di Pace incontro con Alberto Labate docente di Sociologia dei Conflitti e Ricerca per la Pace Sabato 9 marzo Open Day della Caritas Diocesana sarà possibile visitare i locali di via Rinalducci e l'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone Ben trovati a questa edizione del TG Web. Lunedì 25 febbraio nella Basilica di San Paterniano si è tenuto il secondo quaresimale guidato dal Vescovo, i particolari nel servizio di Matteo Itri Nel secondo appuntamento con i quaresimali lunedì 25 febbraio, Monsignor Trasarte ha focalizzato l'attenzione sul sacrificio di Isacco richiesto ad Abramo Abramo è l'uomo della prova non solo per l'episodio della legatura di Isacco ma perché tutta la sua esistenza è un insieme di prove Tutta la lezione del Vescovo si è concentrata a chiarire il senso della richiesta di Dio e della risposta di Abramo Occorre passare ad una conoscenza di Dio nuova, meno prevedibile e libera Dio è il Dio della promessa che liberamente dà, il Dio che si vela e si svela sfidando la nostra fedeltà Domenica 3 marzo alle ore 16 presso il centro pastorale diocesano si terrà l'assemblea pastorale diocesana Guiderà la riflessione sul tema Entrare nella fede per uscire nel mondo, itinerario evangelico di ascolto e ministero Il priore del monastero di Fontevellana, padre Gianni Giacomelli E parliamo ora di scuola di pace, l'arte della pace è stato il tema del quarto incontro A relazionare è intervenuto Alberto Labate, docente universitario di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace Vediamo il servizio Alberto Labate, già docente universitario di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace all'Università di Firenze E' membro del movimento non violento, ha concluso sabato 23 febbraio il ciclo di incontri della scuola di pace Organizzata dalla Caritas diocesana con una relazione dal titolo l'arte della pace Se si spende troppo per armamenti a danno delle spese sociali si indebolisce il paese, ha detto Labate Il nostro paese ha aumentato le spese militari contrariamente a tanti altri, tra cui anche gli Stati Uniti La guerra si elimina con un processo graduale, conoscendo se stessi e gli altri, mettendo in atto la non violenza La prevenzione dei conflitti, ha proseguito Labate, si attua tramite un percorso non violento ben definito che inizia con la segnalazione precoce delle situazioni di rischio e prosegue con il riconoscere gli eventi Sentinella e l'intervento precoce, ovvero un periodo di ascolto in cui aiutare i focolai di pace Altri punti fondamentali del percorso sono le missioni di accertamento e le ambasciate di pace persone che si fermano per lavorare a favore della pace, gemellaggi tra le scuole, creazione di ponti tra gruppi etnici diversi A conclusione dell'incontro, il professor Labate ha ricordato l'importanza di una cultura diversa La pace non è assenza di guerra, ma è un atteggiamento positivo La pace è giustizia, equità, equivalenza, ascolto e dialogo Nella mia esperienza, ha concluso il relatore, uno dei punti importanti è il concetto di assertività un atteggiamento cioè di ascolto dell'altro che non accetta di essere calpestato e risponde alla non violenza con il confronto, ponendo domande e problemi e dal confronto poi passare al dialogo Vi ricordiamo che è possibile rivedere l'intero incontro della Scuola di Pace sul sito fanodiocesitv.it Sabato 9 marzo è in programma l'Open Day della Caritas Diocesana Nella mattinata sarà possibile visitare la sede e l'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone i particolari nella prossima intervista Sabato 9 marzo la Caritas Diocesana organizza una giornata di visita e di incontro con la cittadinanza e con tutti coloro che hanno piacere di conoscere che cos'è Caritas Per il secondo anno infatti organizziamo questo momento di incontro che si svolgerà in due momenti al mattino dalle ore 10 alle ore 13 con delle visite guidate della struttura della nostra sede in via Rinalducci Ci saranno degli operatori, i volontari e i ragazzi del servizio civile che spiegheranno tutti i servizi e i luoghi pastorali della Caritas Sarà possibile visitare in quell'occasione anche l'ex chiesa Santa Maria del Gonfalone annessa ai locali della Caritas Poi nel pomeriggio invece ci sposteremo presso il centro pastorale dalle 15.30 in poi per festeggiare il decimo anniversario della Scuola di Pace Carlo Urbani Ci saranno diversi momenti verranno ripercorsi i momenti più importanti di questi dieci anni di attività e poi ci sarà anche l'intervento, il contributo da parte dei conigi Marasso che ci spiegheranno come educare alla pace in un momento di crisi in questi giorni Quindi vi aspettiamo sabato 9 marzo per le visite guidate sarà necessaria la prenotazione fino al 5 marzo per questo potete fare riferimento al nostro indirizzo di posta info.chiocciolacaritasfano.net o al nostro numero di telefono 0721 82 73 51 Per oggi è tutto L'appuntamento con l'informazione torna l'8 marzo 2013 Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti